Il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Leignini, il direttore della struttura per la progettazione di beni di edifici pubblici dell'Agenzia del De Manio Filippo Salucci, hanno sottoscritto la convenzione che affida alla struttura dell'Agenzia la progettazione e il monitoraggio di 39 interventi su caserme e strutture demaniali da ricostruire in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per la regione Abruzzo i comuni interessati dal provvedimento sono quattro, Monte Reale, Sulmona, Castelli e Teramo. A Teramo gli interventi per un totale di oltre 5,5 milioni di euro sono diversi e riguarderanno la manutenzione straordinaria di uno degli edifici della caserma grue, sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, delle ex carceri giudiziarie di Sant'Agostino, l'ex ufficio del registro a Tigua, la chiesa di Sant'Antonio e il miglioramento sismico della porzione di convento di San Domenico in corso Porta Romana, sempre di proprietà del De Manio che ospitava il distretto militare. Sì, un altro pezzo importante, fondamentale per la ricostruzione pubblica, per il finanziamento della ricostruzione pubblica all'interno della nostra città, si tratta di beni e non di proprietà del comune ma che ovviamente appartengono alla città, pensiamo all'ex caserma grue e a tanti altri interventi che insistono peraltro in centro storico e contribuiranno ad una riqualificazione che la nostra città attendeva da tanto. Ancora una volta ricostruzione, rigenerazione urbana, riqualificazione di Teramo Città Capoluogo con i suoi spazi, gli spazi che costituiscono dei presidi, si conferma un percorso congiunto che ovviamente si va ad intrecciare con le risorse che abbiamo ottenuto come Teramo, come città sull'ordinanza Teramo e ovviamente tutti gli altri interventi che abbiamo spinto, da sindaco di Teramo spinto perché venissero inseriti anche sui beni di proprietà non comunale, pensiamo ai beni dell'ASL e ai beni dell'ASP che abbiamo voluto inserire nelle ordinanze speciali. Come Presidente Anci vuole lanciare anche un appello? Sì, insomma è un momento in cui si sta discutendo degli emendamenti al milleproro e abbiamo la necessità assoluta di inserire alcune norme fondamentali per la vita dei comuni del cratere abruzzese ma non solo, in particolare la sospensione dei mutui sia per quanto riguarda gli immobili privati che per quanto concerne gli enti locali, i comuni in particolare, fondamentali in una fase nella quale abbiamo bisogno di stabilità delle norme derogatorie che ci consentano intanto di affrontare l'approvazione dei bilanci non solo in un'ottica emergenziale ma anche di prospettiva per i nostri territori. Dobbiamo conoscere le norme derogatorie di cui abbiamo bisogno ancora adesso che ci consentiranno di programmare il futuro delle nostre popolazioni. Grazie 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 a tutti